Già ASFO Disability Musica a servizio della disabilità Potrebbe suonare così questa iniziativa Un'iniziativa che fa parte del Disability Pride Movimento internazionale che da qualche anno Ha incominciato con delle iniziative A New York fanno una parata E poi un progetto appunto jazz Noi invece la decliniamo in una maniera diversa Noi pensiamo di parlare alla gente Con delle conferenze divulgative E dopo offriamo loro degli spettacoli Jazz for Disability Perché abbiamo pensato al jazz come genere musicale? Perché il Jazz for Disability è la musica della musica È la musica del gioco Il gioco della musica E allora possiamo con la musica Comunicare tutto ciò che con le parole non possiamo dire Già ASFO Disabiniti Allora L Dai